musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video allora il menu del freehand pack potete sceglierlo potete scegliere questo qui, il normale oppure quello che state vedendo adesso nella foto ecco, l'unico inconveniente è che in alto a sinistra sta scritto ftb anche se quello è il voxel menu dunque, adesso andiamo un attimo in un mondo che devo farvi vedere una cosa allora, ho aggiunto la missicraft la xicraft e comunque la towncraft che prima era bugata un attimo, adesso vi faccio vedere ovvero il bookshelf non diventava libro guardate, è diventato libro vedete? beh, questo era tutto quello che volevo farvi vedere non fate caso a queste cose è un mondo così creato a caso e vediamo un pochino le mie abilità esplodi perfetto se vi state chiedendo perché esploso perché sto usando delle speciali frecce della Robes Plus le exploding arrow infatti si attaccano al bersaglio quando esplodono appunto solo che sono un pochino difficili da tenere perché fanno buchi dappertutto funzionano praticamente come una TNT guardate sentite il suono ecco fatto comunque non è di questo che volevo parlarvi di quello che avevo parlato ve l'ho già parlato quindi bello questo vetro da dove l'ho preso non me lo ricordo comunque ciao a tutti